raga sono all'oro di napoli stasera un'altra volta pizza napoletana che ci ho portato anche un amico mio e ho preso romana luna caprese e cincio formaggi sono una quattro formaggi allora raga io provo a prendere oggi con la bufala datterini olio basilico poi ragazzi ecco qua la cinque formaggi guarda che spettacolo e questa è la romana con l'acciughe che per questa non deve essere male il cornicione sempre top allora raga allora assaggiamo questa pizza contanto questa con l'acciughe cottura come sempre perfetta molto buona ho scelto questa perché non è una delle mie preferite perché adesso sto provando tutto il menù però devo dire media molto buona di solito non la prendo mai qua asciughe io la pizza la sua pizza non mi fa un pazzia asciugare però è molto buona tanta roba allora raga assaggiamo questa pizza con luna caprese bufala e datterini rossi è molto semplice questa niente di particolare è una pizza semplice infatti questa non mi fa pazzia però bisogna provarla però bisogna provarla però questa è buona ma la bufala poi l'impasto è quello che è perché è tanta roba comunque sia si mangia sempre top raga sempre da dico buona cena a tutti raga grazie